Un nonno, simbolo delle generosità, un polpo come legame della città con il mare, il doge, una popolana, la dama dei rolli, fino a Colombo e Paganini, per testimoniare la ricchezza artistica di Genova. Sono alcune delle mascotte digitali, guide, che si animeranno grazie alla realtà aumentata, accessibile attraverso l'uso della nuova applicazione Visit Genoa, che guiderà cittadini e turisti alla scoperta della storia e delle bellezze della città. Un progetto innovativo che parte da lontano e che porta la realtà aumentata a Genova, dedicata ai bambini, alle famiglie che visiteranno sia il nostro centro storico che la nostra città. Partiamo da alcune prime attrazioni con dei disegni di Enzo Marciante che si animano inquadrandoli con la app e poi proseguiremo in tutta la città. Un progetto di accoglienza turistica immersiva, tutti i personaggi delle mascotte disegnati dal fumettista Enzo Marciante. Sono stato contattato per fornire i personaggi icona, che vedete alle mie spalle, hanno preso vita, sono in carne ed ossa, per raccontare di volta in volta attraverso il codice QR, quindi arrivando di fronte a un'apposita targa, il contenuto culturale del palazzo o comunque del monumento, che può interessare il fruitore, il bambino, chiunque, anche gli adulti. La cultura nel senso più profondo del suo significato. La fede, lo sappiamo, è l'incontro con il Signore Gesù che è la verità e quindi sicuramente questi mezzi sono utilissimi per trasmettere quelli che sono i contenuti della fede, che si fa cultura, i monumenti, le immagini, tutto quello che abbiamo passa un messaggio. Grazie a tutti.